Buongiorno. Il libro Guerra e Covid, da cui ho tratto molte letture di questo ultimo periodo, è stato da me prodotto in autopubblicazione. In autopubblicazione l'autore conserva i diritti d'autore sull'opera e i diritti di editoria, tuttavia può in seguito decidere di trasferire attraverso un contratto questi suoi diritti ad un editore, che diventa proprietario a tutti gli effetti di questi diritti. Autopubblicare è il modo di pubblicare un libro in sostanza senza ricorrere ad un editore e si basa sulla presenza di una piattaforma in linea dove l'autore ha la possibilità di creare il proprio libro e poi di metterlo in vendita. Le vendite avvengono attraverso internet e su richiesta dei clienti possono prevedere anche il coinvolgimento di punti di vendita tradizionali, come le librerie che possono occuparsi di raccogliere gli ordini e poi di consegnare la copia ordinata al lettore. L'autore tuttavia può anche acquistare alcune copie del suo libro attraverso il sito e distribuirle autonomamente attraverso altri canali. I servizi sono tanti in autopubblicazione attraverso una piattaforma, tra cui quelli di correzione del testo, quelli di grafica, quelli di copertina, quelli di iscrizione nel catalogo nazionale, quelli di impaginazione. In sostanza ci si può affidare alla piattaforma di autopubblicazione in tutto e per tutto e ottenere un prodotto professionale senza però, questo è il grande vantaggio, perdere i propri diritti. Vediamo al prezzo del libro. Il diritto riconosciuto all'autore dalla piattaforma a cui mi sono rivolto io per pubblicare il libro, il diritto riconosciuto all'autore del libro è del 20%, 20% standard. Io scelsi una piattaforma di autopubblicazione italiana dedita alla pubblicazione, alla stampa, a distribuzione via internet, come abbiamo detto, di opere cartacee e digitali perché, come ho detto, anzi, come dico adesso, questa mia opera è stata prodotta attraverso la piattaforma di autopubblicazione sia come prodotto cartaceo sia come prodotto digitale. Chiesi anche all'imprenditore che mantiene la piattaforma di autopubblicazione, diciamo che gestisce la piattaforma, che fosse azzerato il mio compenso perché il prezzo calcolato su un libro di 640 pagine era troppo alto, veniva circa 40 euro o qualcosa del genere. Allora chiesi che il mio compenso fosse azzerato e mi fu ridotto non a zero ma al 5% perché azzerarlo non sarebbe consentito e oggi il libro allora è venduto a circa 27 euro di cui 1,35 spettano a me e che francamente la cosa mi interessa poco. Il guadagno per fortuna non è certamente il mio obiettivo, anche perché di libri fino adesso ne ho venduti pochi, forse perché la società di pubblicistica a cui si era rivolta la piattaforma di pubblicazione non accettò di fare alcuna pubblicità al mio libro perché il titolo conteneva parole cosiddette improprie, questa fu la motivazione del libro comunque come ho detto esiste anche la versione digitale al prezzo di 3 euro, quindi 27 per la versione cartacea e 3 euro invece per la versione di 3 euro. In definitiva per quanto concerne la pubblicità mi faccio io un minimo di pubblicità per conto mio, il guadagno non è assolutamente l'obiettivo di questo libro, fino adesso sembra che ne abbia venduti due per cui in definitiva non è che io divento ricco, 2 per 1,35 2,70 euro, insomma come introito non è certamente importante, ne posso pensare che questo mio libro sia fatto circolare liberamente, visto che potrebbe addirittura finire nell'indice dei libri proibiti dal potere. Penso soltanto che questa mia voce espressa attraverso il libro si possa andare ad inserire in un coro di mille voci di cittadini che chiedono giustizia perché per quello che abbiamo attraversato il momento della giustizia deve essere un nostro obiettivo. Grazie e alla prossima!